Ho un raffreddore, mi sento tutto chiuso qui, non riesco a concentrarmi, proprio stanotta che devo fare un articolo così importante. Marco, prova Vixinex. Ah, Vixinex. Vero, fa già effetto. Otti, ce l'hai fatta. Come va? Hai più usato Vixinex? Sinex? No, ho ancora il naso libero. E anche la testa. Vixinex spray nasale, ti libera presto e per 6-8 ore. Leggere attentamente le avvertenze. Grazie.